Alessandro Pallana, ti abbiamo visto in pool position, ti manca un po' il pedalare davanti al gruppo? Beh, sicuramente è meglio in bici che sui go-kart, è stata una bella giornata, mi sono divertito, penso che anche gli altri si sono divertiti e speriamo di fare più spesso queste cose. Non solo queste cose, ma che stagione ti aspetta? Io sono ancora con le mie vecchie vicende, sto facendo ricorso al caso, aspetto un esito da loro e spero di rientrare in gruppo.